L'ho conservato come il più grande dei miei segreti. Dopo più di 50 anni che ho dovuto nascostare nel fienile, voglio riportarlo a Mantua. Dal 1934-39 il mantuvano volante vinse un'infinità di dare. Dai che mi sta indietro! E là è l'ultima comunicazione radio, Alfa Biondetti e Alfa Romeo. Sei in testa e Biondetti ha un po' qui dietro. Non lo immaginiamo. Vinse in casa dei francesi, dei tedeschi, degli inglesi e degli americani. Era il pilota più amato del mondo. La morte di suo figlio l'ha segnato profondamente. Quando corre a nuvolare, quando passa a nuvolare, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati. Quando corre a nuvolare, quando passa a nuvolare, la gente aspetta il suo arrivo per ore e ore. E finalmente, quando senti il rumore, salta in piedi. E lo saluta con la mano. Gli grida parole d'amore. E lo guarda scomparire. Ma alla nostra età giornate come queste non tornano più. Ricordalo. Mentre cerchi di godertele fino alla fine. Quando... Corre a nuvolare.